Siamo con la professoressa Esther Cohen, che non è stata citata nel servizio di report, però è stata citata da alcuni attori della vicenda, a partire dal professor D'Ambroso, in merito a un'autentica di un quadro di boccioni che è finita in tribunale ed è poi stata archiviata. Allora volevamo chiedere alla professoressa la sua versione dei fatti e che cosa centrerebbe questo con la mostra sul futurismo. Grazie Federica. Io in realtà veramente non vorrei entrare in queste polemiche, in queste storie di avvocati e tribunali. Credo che se qualcuno vuole può andare a cercare. Sono cose che gettano semplicemente fango e creano un clima di confusione e in un certo senso gettando ombra su quello che è il vero problema, che è quello che riguarda l'arte italiana e la veridicità di molte opere d'arte. Il signor D'Ambroso, semplicemente avendo redatto il secondo catalogo generale di boccioni, quello del 2016, mentre io dal 1983 ho uscito il primo e quindi ho continuato a lavorare su boccioni, devo dire che è veramente molto fortunato ad essere riuscito a trovare 44 inediti in pochissimi anni, in sei anni rispetto alla pubblicazione del catalogo generale. Quindi questo posso dire. In merito, mi volevi fare un'altra domanda, in merito alla mostra? Esatto, in merito alla mostra io mi sono confrontata anche con il professor Benzi e con il professor Simongini. Il professor Benzi, lo ricordiamo, aveva una mostra pronta sul futurismo e l'influenza sulle avanguardie europee, che era stata inizialmente proposta da Giulie per una seconda tappa al maxi e che poi invece è stata all'ultimo momento, secondo quanto direbbe il professor Benzi, messa da parte per una nuova mostra completamente inedita, appunto organizzata dal professor Simongini, il quale ha riconosciuto che inizialmente non era neanche un esperto di futurismo, però aveva conosciuto San Giuliano in un'occasione, San Giuliano aveva letto una recensione che lui aveva fatto proprio su D'Ambroso e quindi in quell'occasione le aveva chiamati entrambi per organizzare questa mostra. Quindi volevo sapere se hai notizie riguardo a questo fantomatico comitato scientifico che in realtà non è stato mai formalizzato, ma per cui sembra che per più di un anno varie persone, tra cui D'Ambroso e Carpi, Giancarlo Carpi, abbiano lavorato alacremente. Allora Federica, io scusami faccio soltanto un discorso molto logico, cioè se uno lavora senza nessun tipo di contratto vuol dire che lavora come scelta propria, quindi è inutile buttare fango intorno a questa vicenda, come ti dicevo prima. Penso che ci voglia maggiore trasparenza e anche maggiore chiarezza rispetto a tutto questo. Prima di tutto è fondamentale, a parte il comitato che è stato formato e poi formato, in realtà non c'è nessun atto formale che abbia ufficializzato questo comitato, per cui, come ti dicevo, credo che dipende dalla propria responsabilità aver scelto di continuare a lavorare senza essere retribuiti, senza un atto ufficiale. Giusto? Non so, io almeno così interpreto la questione. Il problema reale, il problema serio, al di là di tutte queste polemiche che io trovo veramente di bassissima qualità, di bassissimo livello, è che bisogna tutelare l'arte italiana. Questa è la... cioè si perde completamente di vista l'obiettivo reale di tutta la questione, cioè quello della tutela e della difesa dell'arte italiana. Cioè qui si accendono fuochi, accuse, polemiche che sinceramente, come hai visto, io mi sono tenuta fuori perché non mi interessa partecipare a queste scaramucce. Dico semplicemente che bisogna fondamentale a questo punto, in questo atto di trasparenza e di chiarezza, bisogna compiere una distinzione tra le opere che sono scientificamente e storicamente verificate e invece le innumerevoli nuove attribuzioni che danneggiano fortemente il mercato dell'arte. Quindi rimaniamo e cerchiamo di rimanere un attimo saldamente attaccati ai veri valori e diciamo a una serietà e a un rigore che mi sembra che si sia in gran parte perso. C'è stato un intervento del professore sul giornale dell'arte, l'esperto di teatro futurista. Non so se l'hai letto questo intervento e se potevi commentare. Ti dico, non ho molto da commentare, ognuno prende le proprie responsabilità e le segue. Cioè non mi sembra che ci sia molto da commentare. Voglio dire, il professor Berkhaus ha accettato un incarico, dopodiché se questo incarico si è trasformato, benissimo, allora non ha bisogno di polemizzare sui giornali, ma piuttosto diciamo di andare alla fonte del comitente direi. Attualmente la mostra ha 350 opere rispetto alle 650 iniziali e adesso averne tagliate alcune comporta il fatto che l'allestimento venga completamente stravolto. Per cui la domanda che ti faccio riguarda la proprietà intellettuale, cioè il lavoro intellettuale che loro hanno fatto al momento della scelta e quindi della richiesta di queste opere. Come funziona in questi casi? Se Simongini rimane curatore della mostra, anche lì avrà scelto, se le opere, diciamo, se continua a rimanere curatore della mostra, vuol dire che è d'accordo sulla scelta di trasformare la mostra. Io però sinceramente non so come era stata concepita né quali siano stati in Italia. Cioè mi è stato semplicemente così detto a voce, ma io non ho una documentazione precisa su questo. Fabrizio Russo è stato molto contestato. Ieri l'ho sentito e lui ha detto che le opere in totale che provengono dalla sua galleria, ricordiamo, non è che sono sue, lui fa da tramite con alcuni privati, sono soltanto otto. Mentre le opere che proverrebbero dalla collezione della sorella di Carpi e dall'associazione del papà di Giancarlo Carpi arrivano a circa 40. Perché non è stato nominato, non se ne è parlato di questo, secondo te? Federica non lo devi chiedere a me, ma ai diretti interessati. Cioè io non so dirti né chi ha fatto la scelta né per quale motivo sono state selezionate un numero inferiore di opere. Questo devi chiederlo al mistero, direi. Ma secondo te è lecito comunque che otto opere possano arrivare da una galleria o ci potrebbe essere in qualche modo un, non so, conflitto di interesse? Cioè è normale che una galleria privata per una mostra internazionale metta a disposizione numero otto opere? Federica, abbiamo sempre chiesto nelle mostre e nell'organizzazione delle mostre, abbiamo sempre chiesto l'aiuto delle gallerie e dei galleristi che voglio dire molto spesso in maniera così anche disinteressata hanno collaborato ad aiutare in modo che si potessero ottenere delle opere che testimoniassero di una certa, cioè che servissero a testimoniare dell'importanza dell'arte italiana. Perché si sono accaniti quindi secondo te contro russo in particolare? Non te lo so dire e lo dovresti chiedere a D'Ambroso. D'Ambroso 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 D'Ambroso